Digitalizzazione degli atti amministrativi e semplificazione delle procedure con particolare riferimento alle norme che prevedono la superfluità di produrre alla pubblica amministrazione una lunga serie di certificati da parte del singolo cittadino. Di questo si è parlato a Palazzo del Governo nel corso della conferenza provinciale permanente preseduta dal prefetto Luigi Varrata. Sul solco già tracciato da una normativa del 2000 che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di non richiedere dati che riguardano i cittadini di cui sono già in possesso, che prevede che questi dati siano acquisiti nell'ambito delle stesse pubbliche amministrazioni e che i cittadini non vengano richiesti documenti ma che le loro richieste siano accompagnate da un'autocertificazione. Durante l'incontro ai 61 partner dell'organismo prefettizio, dalla direzione provinciale del lavoro all'azienda sanitaria provinciale, da IMSS e INAIL ai sindacati, da Confindustria all'ufficio scolastico provinciale, è stata pure sottoposta la bozza del protocollo d'intesa in materia di sicurezza sul lavoro che sarà sottoscritto nei prossimi giorni. L'accordo, elaborato dall'osservatorio provinciale sugli infortuni sui luoghi di lavoro, articolato in 10 punti, avrà durata biennale prorogabile, prevede tra l'altro l'interconnessione tra le diverse banche dati, per mettere in rete le informazioni relative agli incidenti sul lavoro, l'allestimento di progetti, finanziati anche con fondi UE, seminari di formazione e iniziative di aggiornamento professionale sul tema, così come percorsi educativo formativi, su conoscenza di norme e rischi in materia rivolti agli alunni delle quinte classi, degli istituti professionali e ai rappresentanti dei genitori, ma anche la creazione, sul sito web della Prefettura di Reggio, di un'apposita sezione dedicata all'attività dell'osservatorio, sancita inoltre verifiche trimestrali sull'effettiva attuazione dell'intesa.